In corso a Pistoia le riprese per Rai 1 di Margherita delle Stelle, film biografico su Margherita Hach, diretto da Giulio Base con Cristiana Capotondi e Cesare Bocci. La troupe nei giorni scorsi ha girato alcune scene in aree private, poi il set si è spostato nella piazza centrale di Pistoia e in alcune vie limitrofe. Piazza del Duomo si è trasformata così in un set cinematografico con alcuni elementi scenografici, tra i quali una carrozza trainata da un cavallo, macchine d'epoca, biciclette e un carrettino di gelati, insieme a molte comparse vestite in abiti degli anni 40. Agli attori e alla troupe non è mancato l'affetto di molti pistoiesi che interessati e incuriositi hanno seguito le telecamere accese sulla piazza. Il film, diretto da Giulio Basi e scritto da Monica Zappelli con Federico Taddia è tratto dal libro autobiografico Nove vite come i gatti, scritto da Margherita Hack insieme allo stesso Taddia. Oltre a Cristiana Capotondi nel ruolo di Margherita e Cesare Bocci nei panni del padre Roberto, nel film sono presenti anche Sandra Ceccarelli e Flavio Parenti, rispettivamente la madre e Aldo De Rosa, il marito della Hack. La pellicola ripercorre la vita della ricercatrice fiorentina dall'infanzia fino all'età adulta, quando è diventata la prima donna a dirigere l'osservatorio astronomico di Trieste.